Ad Arezzo, nel cuore del centro storico, in questo storico hotel che è il Vogue Hotel, nasce questo progetto di fare una galleria che è a disposizione degli artisti italiani e internazionali. Il nostro augurio è che si partirà con degli artisti locali per iniziare, ma pian piano il nostro augurio è che si allarghi questa struttura a realtà creative che vengono un po' da altri casi con l'obiettivo di costituire qua un momento d'incontro e uno snodo fondamentale di creatività artistica. La prima mostra che viene ospitata all'interno di questo progetto è del maestro Rocco Rusiello. Il nome evoca di cosa si tratta, metafisica. Rusiello nasce come figurativo, poi si afferma una quindicina di anni fa come metafisico. Gli elementi importanti della sua pittura sono il colore, la forma e la prospettiva. Non a caso siamo nella città di Piero della Francesca, il maestro della luce, il maestro della prospettiva e Rusiello incarna in pieno questi concetti fondamentali. Una prospettiva dove predomina la calma, la calma quiete e dove l'artista attraverso le forme che sono evocative torna anche alle sue origini che sono quelle lucane, terra ricca di tradizione e soprattutto ha visto il passaggio di due importanti culture, la cultura greca, quindi cultura classica e la cultura romana. Lui la rielabora attraverso l'aspetto mnemonico e sulla tela fissa proprio questi concetti. Quindi una metafisica a 360 gradi dove la quiete, la prospettiva e soprattutto il ricordo sono i protagonisti principali.